Noi non sappiamo cosa è che avrà da più a 10 anni, ma sappiamo che se investiamo sull'intelligenza, sull'innovazione, sulla qualità delle donne e degli uomini che lavorano, l'Italia avrà un ruolo. È questo il nostro compito. Se qualcuno fino a 30 anni fa vedeva nelle poste il luogo della speranza, perché forse vi sistemo, oggi i ragazzi di oggi devono vedere nelle poste il luogo della speranza perché forse mi metto in gioco, perché forse invento qualcosa, perché forse divento uno di quelli che con una buona idea do una mano.